Doverosa precisazione, parlare di crisi societaria risolta non è corretto e appare probabilmente azzardato, almeno per il momento. Qualcosa, seppur sotto traccia, comincia a muoversi. Forse è già in fase di evoluzione. Ci sarebbe, il condizionale nella circostanza appare d'obbligo, un'accordata composta da imprenditori baresi interessata ad ereditare il timone societario della Vigortrani e dare un futuro al calcio biancazzurro, alle prese con un inizio di stagione particolarmente travagliato. Non si conoscono i nomi dei protagonisti. Qualcosa comincia a trapelare, tuttavia, per quanto concerne propositi ed intenzioni. Ci sarebbero, infatti, dei contatti avviati per affidare la guida tecnica della squadra all'ello sciannimanico, che andrebbe così ad ereditare il posto lasciato vuoto da Muzio Fumai, che a sua volta ha lasciato la panchina la scorsa settimana rimettendosi dal suo incarico. Una semplice ipotesi per il momento. Pare che le prime conferme, o eventualmente le definitive smentite, arriveranno già nella giornata di domani. Non c'è tempo da perdere, d'altronde, per provare a salvare la categoria di appartenenza del Trani, l'eccellenza. Domenica prossima, con ogni probabilità, la Vigor scenderà in campo nel derby in trasferta contro la Molfetta Sportiva, ancora con la Juniores. Dovrebbe farlo per la quinta ed ultima volta. Poi, da lunedì prossimo, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo, con una nuova proprietà, una nuova dirigenza e un nuovo allenatore. Più semplicemente, potrebbe essere tutto un altro Trani, quello che poi sfiderà l'Unione Calcio Biceglie in casa il 23 ottobre.